No, no, no! Stop! Stop! No, no, no! Stop! 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 Lascia giù! Lascia giù! Lascia giù! Lascia giù! Lascia giù! Lascia giù! Stop! Stop! No, no, no! Questa è un occupazione simbolica! Venici i cittadini luci! Responsabili! Responsabili dei grossi di ministrazione delle scuole! Le scuole di Milano volevano chiedere tutte le cose riguardo al progetto allenati per la vita. Responsabili! I responsabili non c'erano adesso. Non c'erano adesso. Siete soci? Possiamo parlare con uno di voi? Il mio figlio è responsabile! I corsi militari! Nella scuola è una vergogna! Non vogliamo i militari! Veniamo alla scuola! Ehi! Giovane! Ehi! Io sono un avvocato! Via! Via! Ehi! Sono un avvocato! Non fare fotografie! Via! Calma! Ci sono più altre 100 persone! Ti denuncio! Voi vi dovete comportare... Questa è un occupazione simbolica negli uffici delle ONUCI! Siamo studenti delle scuole! Vai! Siamo studenti delle scuole! All'ultima volta non me le puoi fare! Ti denuncio! Di questo!